nelle scuole, poi come dire forse ha trovato la persona giusta perché io vengo dal mondo scolastico, ho telefonato alle mie colleghe che vedo presenti e ringrazio delle scuole delle quattro istituzioni superiori cittadine e loro hanno accolto con altrettanto piacere e con altrettanta credo voglia di fare questa mostra che è stata apprezzatissima credo come dicevano le mie colleghe, quindi veramente questo giorno della memoria per noi questa celebrazione è importantissima, è una celebrazione che come dire ricorda la Shoah, ricorda un periodo terribile, noi abbiamo come istituto di storia fino al Covid fatto un progetto molto bello che è intitolato La memoria e il viaggio che era costituito da tre step, da tre fasi, una prima di formazione rivolta a tutte le scuole superiori, ai ragazzi di quarta e di quinta degli istituti superiori della regione, dopodiché dopo questa preparazione anche attraverso i testimoni e quindi abbiamo invitato e portato molti testimoni in questa sala, abbiamo programmato sempre un viaggio in uno dei campi di concentramento, Auschwitz e non solo, Mauthausen, Bergenbhausen eccetera, insomma ecco Dachau e poi appunto c'era la ristituzione dei ragazzi e questo viaggio, questo progetto faceva crescere veramente molto i ragazzi perché i ragazzi non solo apprendevano una pagina di storia ma in qualche modo ne venivano coinvolti quindi c'era veramente una crescita personale. Io però mi fermo perché oggi non devo fare altro se non ringraziare tutti per la presenza, presentarvi i miei, il padrone di casa a cominciare appunto dal consigliere Simone Angelosante che è qui in rappresentanza appunto del Presidente Sospiri e del Consiglio regionale, io lo ringrazio e gli do immediatamente la parola e poi presento gli altri ospiti. Grazie davvero consigliere per aver voluto condividere con noi questa giornata, grazie. Grazie. Intanto complimenti ai nostri giovani perché hanno fatto qualcosa di molto bello, un'esibizione direi magistrale, complimenti davvero. Eccellenza, le do il benvenuto nella nostra regione, nella città dell'Aquila, una città che ha saputo rinascere dopo gli eventi terribili del terremoto e penso che la sua presenza oggi sia davvero un grande onore per noi, soprattutto in questa giornata della memoria. Io sono emozionato nel vedere così tanti ragazzi a essere presenti oggi qua perché oggi questa giornata in particolare nella nostra regione è dedicata ad una figura, ad una ragazza di più o meno la stessa età. Io so che ne avete parlato, l'avete studiato, avete letto il testo, ma quello che vi chiedo è di, se potete, di fare uno sforzo per immedesimarvi in quello che questa ragazza ha passato e nella forza che ha avuto nel raccontare anche le proprie paure, i propri sentimenti, le proprie cose intime in un momento in cui doveva essere nascosta per la brutalità del nazismo e per la brutalità della guerra. Non la prendete in maniera superficiale, cercate di immedesimarvi perché se voi che siete le nuove generazioni sarete in grado di capire sentendolo, vivendolo, quello che il messaggio che Anna Franca ci vuole portare, un messaggio eterno che lei ci vuole portare. Perché al di là dell'evento storico di per sé, del doversi nascondere dai nazisti, ma questo è un messaggio eterno perché ci saranno sempre degli oppressori e sempre degli oppressi. Allora immedesimatevi in questo e tenete presente della fortuna che abbiamo oggi noi, perché pur fra guerre, fra crisi, fra tante cose brutte, però oggi noi qui abbiamo un rappresentante istituzionale del governo olandese, governo nostro amico in una cosa bellissima che è l'Unione Europea, in un qualcosa che da tanti anni ormai qui nell'Europa occidentale ci garantisce la pace, che è forse l'obiettivo più importante che ciascuno di noi deve raggiungere. Oggi questa giornata viene in un momento particolare, voi tutti sapete quello che sta succedendo in Medio Oriente. Però come ha detto il Presidente Mattarella proprio ieri, dobbiamo evitare le estremizzazioni, dobbiamo riconoscere ai popoli il diritto di autodifendersi, ma dobbiamo evitare che questo diritto poi diventi una prevaricazione. E questa è la posizione ufficiale dell'Italia, del nostro governo e del nostro Presidente. Perché estremizzare i discorsi porta a questi risultati. Porta al fatto che una ragazza di 13 anni ha dovuto vivere la sua adolescenza interrotta bruscamente in un campo di concentramento nascosta. Non possiamo dimenticare. Vedete, non è retorica la giornata della memoria. Non la dovete vivere come una dei tante cose che succedono a scuola, Pasqua, Natale, Capodanno, poi pure la giornata della memoria. No. Deve essere un messaggio chiaro e forte per ciascuno di voi. Perché voi siete il futuro. E se voi perdete questo messaggio, beh credetemi, visto che tutto sarà nelle vostre spalle da qui a qualche anno, sicuramente l'umanità vivrà peggio. Quindi fatene tesoro di quello che sta succedendo oggi e di quello che stiamo commemorando oggi. Grazie. Viva l'Olanda e viva il nostro Abruzzo. Va bene, ringrazio il consigliere Angelo Sante e do immediatamente la parola alla consigliera e assessore del Comune dell'Aquila, assessore alla cultura della città e anche alla promozione nel mondo della nostra città che, credetemi, adesso ce lo dirà anche l'avvocato Ersilia Lancia, è una città bellissima. Lo dico da Aquilano, ma è vero. Ecco, e quindi vuole venire qui. Allora, grazie, assessore. Grazie. Grazie Carlo, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie anche per la promozione sul campo, perché mi hai detto che sono assessore alla cultura ed è un grande complimento sempre, ma non è così. La cultura è una delega che detiene il sindaco, io ho il turismo, ma non importa. assolutamente sì, ho anche le politiche giovanili, ma non voglio parlare di me, devo portare il saluto istituzionale del Comune, questo sì, che è il motivo per il quale indosso la fascia tricolore con emozione, come qualcuno già prima di me ha detto. Dunque, saluto i ragazzi, le ragazze, i professori, gli istituti, ringrazio te, il professor Carlo Fonsi, grande benvenuto all'ambassatrice, Pauline Dippenbroek, difficile cognome, spero di non aver sbagliato. È una giornata importante, c'è il rischio di perdersi delle parole, è importante cercare di trovare le parole giuste, il modo migliore. Quest'anno l'avete fatto in maniera ammirabile, questo è davvero il modo migliore, secondo me, questa mostra, questa modalità, questa giornata importante che è istituzionale ed istituzionalizzata, che racconta una storia che è la storia, che fa memoria. Oggi più che mai ci interroga, oggi più che mai sfida, nell'accezione positiva del termine, il cuore degli uomini e delle donne di questo tempo, uomini e donne delle istituzioni, uomini, donne, ragazzi, ragazze, noi che siamo qui, ragazzi che oggi ci hanno regalato questi meravigliosi inni, ci sfida e ci impegna, in un tenderci le mani, facendo memoria, ma pensando a un presente, a un futuro che possiamo costruire tutti insieme, senza fungire, senza alibi alcuno. Quindi credo che questa figura di Anna Frank, che è un po' anche iconica, che è bellissima e che scopriremo oggi, grazie anche all'apporto importante del professore Dacher, non è l'unica, seppur è la più conosciuta. Io, dicevo prima con Carlo, l'ho letta forse troppo giovane, troppo presto il diario di Anna Frank, avevo nove anni, non di più, trovai l'edizione, diciamo, più nota e questo però mi ha consentito di conservare anche un po' il sentimento che si sente nella legge, questa ragazzina che scrive il diario chiamandolo Carachitti, che ha un'amicizia con Peter, quasi si innamora e questa cosa mi è rimasta come ricordo. E poi ad Amsterdam, molti anni dopo, nel 2009, quando ho scelto di visitare la casa, ho sentito quasi un contrasto con questo ricordo che comunque io osservavo da ragazzina e questi luoghi visitatissimi, molto visitati, con un silenzio forte, carico di domande. Questa cosa mi ha colpito molto e oggi per me è anche un po' chiudere un cerchio e continuare un cammino che è davvero nel ricordo, nella storia di quest'Anna Frank, di tutta l'umanità, di tutti noi. Quindi io vi auguro e mi auguro anche un'importante sessione di lavoro. Sapete, questa giornata è piena finalmente di iniziative, il Comune e la Regione sono impegnate a pochi metri da qui in un altro appuntamento importante, ci saranno concerti, so anche, le voglio ringraziare perché alcune sono qui e che si sta facendo un grande lavoro incessante nelle scuole, che è l'aspetto diciamo più importante, che ci regala, ci consegna, mi consegna speranza, quindi grazie. Grazie, grazie Assessore per il suo bellissimo intervento. Io passo la parola al Massimiliano Ardoci che è il nostro direttore, anche il mio, anche se non sono più nella scuola dell'ufficio scolastico regionale. Prego. Allora, buongiorno a tutti, io saluto tutti i presenti, i ragazzi, i docenti, le dirigenti, tutte le autorità e l'ambasciatrice olandese, do il benvenuto a nome di tutte le scuole abruzzesi. Oggi è una giornata importante, in tutte le scuole si celebrano eventi commemorativi, ci sono iniziative per il ricordo, però c'è da dire che questa è un po' solo la conclusione di un percorso di studio che vede i nostri ragazzi impegnati nell'approfondimento di quello che è stato il momento storico a cui facciamo riferimento. Quindi la giornata di oggi va intesa come un momento di celebrazione, un momento importante che ha anche una grossa visibilità, ma è appunto il punto di arrivo di uno studio che è necessario per capire effettivamente quello che è successo e per formare le coscienze degli studenti. Quindi c'è da dire che le scuole abruzzesi sono molto impegnate negli anni, non ci sono iniziative estemporanee, ma nel corso degli anni l'approfondimento di quella che è stata lo Shoah ha sempre ricevuto la massima attenzione, quindi non solo nel momento conclusivo che è la giornata appunto di oggi, ma un po' durante tutto l'anno. Questo è importante perché la scuola è chiamata appunto non solo a dare competenze, ieri eravamo con il presidente dell'imbalzo, con il professor Ricci, abbiamo visto che come Abruzzo insomma dal punto di vista delle competenze siamo messi così così, però alla scuola viene chiesto comunque di formare le coscienze, di formare dei cittadini ed è questo diciamo così tutta l'altra parte del lavoro che si fa a scuola che magari è difficile da rilevare con modelli matematici, ma che è prioritario e che diciamo così in Abruzzo ci vede forse possiamo dirlo soddisfatti, forse da questo punto di vista più che da quello strettamente legato alle competenze italiano, matematica, inglese, in particolare matematica, però sappiamo che le nostre scuole sono inclusive, sono accoglienti e abbiamo bassi livelli di dispersione, quindi tutto questo in parte ci conforta. Ovviamente non è tutto e solo merito nostro, è importante avere comunque sinergie, io ringrazio sempre il dirigente Carlo Fonsi, visto che lui si ritiene ancora in servizio, perché il lavoro che lui fa con l'istituto insieme alle scuole è importantissimo e penso che anche eventi come questo possano contribuire sicuramente a far crescere i ragazzi. Il successo della mostra credo che così come di altre iniziative sia dovuto al fatto che ai ragazzi è stato dato protagonismo, cioè i ragazzi sono stati diciamo così attivamente impegnati nelle varie attività, non sono stati soggetti passivi, diciamo così, ma hanno potuto, come è stato ricordato, come è stato detto, immedesimarsi e prendere piena coscienza, oltre che, diciamo così, conoscenza dovuta allo studio, ma anche piena coscienza appunto di quello che è accaduto. Io ringrazio tutti i presenti e auguro a tutti una buona giornata. Grazie direttore, anche per considerarmi ancora in servizio come dirigente. Di solito uno continua a viverla l'esperienza scolastica, ne parlavo con l'assessore Lancia, vivere nella scuola dà questa forza e questa identità poi, quindi anche quando uno poi cambia mestiere, o va via, insomma io non ho cambiato mestiere, nel senso che sono andato via dalla scuola, ma continuo ad essere legato. Allora do la parola al prorettore dell'Università dell'Anquila, professore Antonio Mecozzi, per un saluto. Buongiorno a tutti, benvenuto l'ambasciatrice. Parlo qui a nome del professor Alesse, che non è potuto intervenire, in quanto impegnato nella inaugurazione dell'anno giudiziario. Però è un grande piacere a me intervenire in questa sede, perché credo che oggi, sono 23 anni, come il professore ricordava, che la giornata della memoria è stata istituita, ma credo che quest'anno è un anno molto particolare per questa ricorrenza, nel senso che il 7 ottobre di quest'anno è cambiato qualcosa. Sono state più di mille persone che sono state uccise in quanto ebree. Non dimentichiamocelo. Quindi quest'anno, e questo ha scatenato, voi sapete, avete seguito, noi viviamo nel mondo dell'informazione, quindi sappiamo tutto, ha scatenato una guerra, ha scatenato reazioni, anche reazioni in Europa, che hanno portato a un rigurgito di antisemitismo. L'antisemitismo non è scomparso. Quindi, ragazzi, state attenti a distinguere il giudizio che possiamo avere su una reazione eccessiva, come diceva il nostro presidente Mattarella, dello Stato ebraico, dall'antisemitismo. Questa mattina sono venuto qua un pochino prima e quindi ho girato in anticipo per la mostra. È una cosa che mi ha stupito, però stamattina leggevo, se voi andate adesso andrete, e vedrete che in Germania Hitler ha sicuramente amplificato, ma si è basato su fortissimi sentimenti antisemitiche che erano già presenti in Germania. In questo mondo moderno dobbiamo anche stare attenti perché il mondo è cambiato negli ultimi 70 anni e c'è uno strumento di comunicazione che allora era sconosciuto e che adesso è anche abbastanza sconosciuto, che sono veriti sociali, che possono amplificare questi sentimenti. Quindi, attenzione ragazzi, parlo a voi giovani, a non indulgere in sentimenti di razzismo e di antisemitismo. Questo era tutto quello che dovevo dire. do un benvenuto al nome dell'Università dell'Aquila ambasciatrice e ricordo che io sono appunto un membro dell'Università e l'Università deve avere, mi ricordo a me stesso, l'Università deve avere come ruolo più importante quello ovviamente del colloquio, diciamo dello scambio culturale indipendentemente dall'origine delle persone. Noi abbiamo tantissimi stranieri che collaborano in perfetta sinergia, gente, anch'io nel mio gruppo, che viene da tutto il mondo, cinesi, indiani, e quindi è un posto dove speriamo di coltivare, di evitare che questi bassi sentimenti umani in qualche modo riemergano nella storia. Grazie a tutti. Allora, siamo arrivati al momento più importante per noi perché abbiamo appunto la nostra viceambasciatrice, Sua Eccellenza, io mi scuso in anticipo se sbaglio il suo nome, Eccellenza Pauline Diepenbrock, che è appunto la viceambasciatrice dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, che ha finanziato la mostra, che sta portando appunto questa mostra per tutta Italia e che ha voluto proporla, regalarla anche all'Abruzzo. A lei la parola, vuole venire qui, ambasciatrice? Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, le autorità presenti, le scuole, le professoresse, professori, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi qui. Oltre un anno fa, nel novembre 2022, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato nei Paesi Bassi per una visita di Stato. Una visita memorabile durante la quale ha incontrato i re dei Paesi Bassi e consorti, il primo ministro olandese, i presidenti della Camera e il Senato, ma anche la comunità italiana nel nostro Paese. Nel penultimo giorno, il Presidente si è infine recatato ad Amsterdam, dove ha potuto visitare la casa di Anna Frank. Il suo contributo nel libro degli ospiti dimostra quanto la visita lo abbia copito, e cito, consentita gratitudine per l'accoglienza ricevuta in questo luogo distruggente memoria del periodo più buio della nostra storia recente. E dunque per me è un grande piacere essere oggi qui presente in occasione dell'apertura al pubblico della mostra su Anna Frank all'Aquila. Ci tengo a ringraziarvi per l'invito. In particolare vorrei ringraziare il consigliere Simone Angelo Sante, Carlo Fonsi dell'Istituto Abruzzese per la Resistenza e la curatrice Roberta Gibertoni. Ringrazio anche la bellissima città L'Aquila e l'assessore per questa cooperazione importante. Anna Frank ha un legame indissolubile con la storia dei Paesi Bassi. Io stessa ricordo benissimo l'impressione che mi fece il diario di Anna Frank quando l'ho lessi da bambina. Grazie ai suoi scritti l'inimmaginabile idea di vivere in quel modo rigidamente confinata dal mondo esterno diventa più tangibile, più immaginabile. Credo che qualsiasi lettore rimanga semplicemente addolorato quando si rende conto che Anna Frank non è sopravvissuta. alla guerra. Anche i miei figli di 15 e 12 anni conoscono il diario. La storia di Anna Frank continua a vivere anche oggi anche nelle generazioni più giovani. È infatti una storia attuale. Nei Paesi Bassi consideriamo l'Olocausto come uno dei periodi più bui della nostra storia recente. Per citare il presidente Mattarella. Alla vigilia della guerra i Paesi Bassi contavano circa 9 milioni di abitanti tra cui 140.000 ebrei. Di questi non meno di 102.000 furono uccisi nei campi di concentramento. Una di queste 102.000 persone era proprio Anna Frank. Grazie all'incredibile lavoro di Anna Frank manteniamo viva la memoria dell'Olocausto che vogliamo ricordare oggi in occasione della giornata della memoria. Un lavoro che diventa sempre più importante in un'epoca in cui gli ultimi testimoni stanno scomparendo per cui a breve non ci sarà più nessuno con un ricordo diretto dell'Olocausto. Il ruolo di Anna Frank non si esaurisce però con la sola sola commemorazione. Per i miei figli Anna Frank è anche un simbolo della lotta per i diritti umani un pubblico difensore della giustizia sociale. Anna Frank è un'ispirazione per le nuove generazioni. È quasi incredibile pensare che il suo diario sia scritto in un modo così accessibile che risulta coinvolgente ed emozionante anche per i giovani di oggi. Anche a distanza di quasi 80 anni la sua vita è ancora un esempio per tutti noi. La presenza oggi di così tante studentesse e studenti dimostra che Anna Frank ha ancora oggi un ruolo fondamentale per la memoria e per il futuro. loro sono e voi siete la speranza per il futuro un futuro in cui non c'è posto per la discriminazione e la persecuzione. Grazie. grazie. Applausi Grazie eccellenza per il suo bellissimo intervento. Prima di ripassare la parola alla musica voglio intanto salutare ancora i presenti ringraziare le autorità presenti vedo il colonnello comandante delle forze abruzzo molise Marco Jovinelli che mi onora anche di essere il mio amico per cui poi spesso gioco in casa perché con molti dei presenti ho già salutato i miei colleghi dirigenti scolastici saluto ovviamente gli alunni e tutti gli altri insomma vedo Goffredo Palmerini vedo altri che sono presenti qui insomma i miei collaboratori anzi lo faccio subito proprio perché ho timore di dimenticarlo questo evento di oggi è possibile anche alla collaborazione con il mio ufficio che è l'ufficio della regione naturalmente e quindi saluto e ringrazio le dottoresse Maria Lidia Frani e appunto Francesca Viola quindi tutto questo è possibile per tutti questi motivi adesso invece passo a presentare mi chiedo scusa perché mi serve la scaletta mi chiedo scusa mi serve la scaletta musicale saluto il liceo musicale la professoressa e maestra d'orchestra direttrice d'orchestra ritaloggia i professori Mauro Vaccarelli Luigi Macerola Maria Margherita Paci e saluto ovviamente i ragazzi del liceo musicale Cotugno ricordando con un po' di nostalgia che io sono stato il primo preside di questo istituto di questo liceo quando era accorpato soltanto al convitto nazionale poi il convitto nazionale si è allargato e la mia collega appunto Serenella Ottaviano è l'attuale dirigente e con grande maestria bravura sta portando avanti anche il musicale quindi mi fa veramente piacere credo che a questo punto ci sia l'intervento musicale vi do la parola forse dovete venire qui per presentarci il brano grazie il primo dei brani che vi presentiamo oggi è qui in questa terra tratto dall'antologia di musica concentrazionaria raccolta da Francesco Lotoro è un brano attestato nel campo di Auschwitz-Birkenau nel 1944 la testimonianza di Settimia Spizzichino riporta questo testo in lingua italiana opera di Frida Misul sulla melodia dell'Atikwa intonato clandestinamente nel campo del gruppo femminile italiano oggi in un arrangiamento per coro a voci miste e strumenti qui in questa terra triste e maledetta soffrono molto i figli di Israele stanchi e sfiniti da trocipene noi aspettiamo la liberazione oh buon Dio dacci la libertà a casa nostra vogliamo ritornare grazie a tutti Grazie. 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 Allora, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno eccellenza viceambasciatrice, a tutte le autorità, un buongiorno particolare alle dirigenti, a Roberta, colleghi e colleghe in attività o ex in attività e soprattutto, però mi si permetta, buongiorno a tutti quanti e tutte quanti voi ragazzi e ragazze che siete coetane e coetane di Anna. Quando si è prospettata l'ipotesi di portare qua all'Aquila la mostra, su Anna e Frank, abbiamo ragionato col Presidente, lui mi ha proposto, modestamente accettato, no con entusiasmo accettato, di che cosa parlare. E allora mi è venuto in mente questo, che la coincidenza del giorno della memoria con l'esposizione, l'inaugurazione presso il Consiglio regionale della mostra documentaria su Anna e Frank, l'occasione per invitare alla conoscenza di altri diari segreti, scritti da coetane di Anna, spesso ancora poco noti, che contribuiscono a formare quella cultura della memoria di cui l'opera di Anna è parte integrante. Molti conoscono diari scritti durante il periodo, ovviamente lo colloquiamo intanto soltanto nel periodo della Seconda Guerra, ma diari ne abbiamo tantissimi, di personaggi anche famosi, uno su tutti è il T. Ilesum, ma di adulti. Ragazzi, Anna e Frank è diventata un simbolo mondiale per le vittime di razzismo, antisemitismo, nazifascismo. La sua è una storia ancora attuale dal momento che le domande che Anna si poneva nel suo diario di ragazza sono ancora estremamente rilevanti e cruciali oggi, per i giovani e per gli adulti, che allo stesso modo si chiedono perché gli uomini, queste sono parole di Anna, non possono vivere insieme in pace? Perché deve stare tutto? Le sue righe testimoniano la sua voglia di vivere, il coraggio di sognare, di guardare oltre le drammatiche circostanze in cui visse. Il suo sogno non riguardava soltanto il futuro personale, ma era ravvivato dalla speranza di un mondo migliore, più umano e giusto, ed era convinta che ognuno potesse contribuire a questo risultato, pur se conscia che, sempre parole di Anna, nell'uomo c'è proprio l'impulso di distruggere, di assassinare e di infierire. Si dice che con il suo diario, pubblicato due anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, Anna Frank dà in qualche modo voce avvolto a sei milioni di ebrei, incluso un milione e mezzo di bambini, il numero delle vittime. Io aggiungerei anche le altre tantissime vittime della strategia di distruzione. Come ha affermato Primo Levi, una singola Anna Frank ci commiove più che gli numerosi e le altri che hanno sofferto proprio come lei, ma le cui facce sono rimaste nell'ombra. Forse è meglio così, se fossimo capaci di contemplare le sofferenze di tutte quelle persone non saremmo capaci di vivere. La seconda guerra mondiale coinvolse milioni di bambini, di adolescenti, di minorenni. Molti di loro erano nati all'ombra dei totalitarismi, sottoposti a una pedagogia che ne aveva plasmato il carattere, la cultura, la mentalità. Tanti erano sottoposti a un'annosa politica di discriminazione e ghettitazione che li avrebbe condotti verso l'annientamento. Tutti furono vittime e attori a diversi livelli. A conflitto terminato, in tutto il mondo vi sono stati più di 50 milioni di bambini uccisi, feriti o mutilati. Unitamente ai disegni, i diari furono strumenti importantissimi per documentare le loro esperienze, condividere i loro sentimenti e riflettere sui trami sopportati durante quegli anni da incubi. Come per Anne, scrivere degli eventi anche raccapriccianti che stavano vivendo rappresentò, per i piccoli autori, anche una valvola di sfogo, un modo di sentirsi vivi per mantenere una propria identità. Come lei scrisse sulla prima pagina del suo diario, il 12 giugno 1942, spero che ti potrò confidare tutto, come non ho potuto fare con nessuno e spero che sarà per me un gran sostegno. Questo valeva anche per i non ebrei, per chi non era ninchiuso nei campi o nei ghetti, ma che comunque viveva la realtà della guerra. Anche per noi, generazioni successive, l'utilità di questi test è motivata dalle parole espresse la sera del 28 marzo 1944 a Radio Orange da Gerrit Bolkenstein, Ministro dell'Educazione, delle Arti e delle Scienze del Governo in Regno dei Paesi Bassi a Londra. La storia non può essere scritta soltanto sulla base di relazioni ufficiali e documenti d'archivio. Se le generazioni future dovranno rendersi conto appieno di quello che il nostro popolo ha vissuto ed è riuscito a superare in questi anni, avremo bisogno di testimonianze semplici. Un diario, le lettere di un lavoratore della Germania, una serie di prediche di un predicatore o di un sacerdote. Soltanto quando saremo riusciti a raccogliere una grande quantità di questo materiale semplice e quotidiano, soltanto allora lo scenario di questa lotta per la libertà potrà essere dipinto in modo spienamente veritiero. Anche Anne venne a conoscenza di quelle parole e decise di trasformare il suo diario intimo in un romanzo utilizzando alcuni fogli volanti delle macchine per scrivere e ripercorrendo a partire dalla data del 6 giugno 1942 fino al 29 marzo 1944 tutta la sua vita e le vicende dell'alloggio segreto. Il padre di Anne, Otto, utilizzò parti di questo testo, destinato a rimanere a lungo inedito, per integrarle il diario. Nella prefazione alle recentissime edizioni di Cara Kitty, il romanzo di Anne Frank, Frediano Sessi ha scritto, Anne con il suo romanzo diventa una donna libera e forte, niente più la potrà ferire e spaventare ed è proprio grazie a questo lavoro di lettura e di scrittura delle giornate trascorse all'ombra della minaccia dei nazisti che può scrivere un pensiero che manifesta la sua forza d'animo, si gentile e abbi coraggio. E quindi è molto importante conoscere anche questo testo per comprendere meglio Anne, così come è importante conoscere gli altri giovani autori di diari di cui solo poche decine di esemplari sono arrivati a noi. Tutti non furono solo vittime della barbarie naziste ma al loro modo dei resistenti come ci ha anche accennato prima. E quindi è molto importante conoscere, andiamo dunque a vedere, scusate, nell'insieme questo corpus di diari anche alla luce del fatto che l'opera di Anne Frank è stata definita il prototipo dei diari di ragazze vittime della guerra dell'olocausto. Come abbiamo sentito anche delle parole di Primo Levi, Anne Frank è diventata una sorta di simbolo esclusivo, un unicum universale, una sorta di sineddo che c'è una parte per il tutto. Perché è avvenuto questo almeno nel cosiddetto immaginario collettivo? Una psicoterapeuta, Lorea Lollide, autrice di ragazzi in guerra, diari segreti dalle oscenti europee del secondo conflitto mondiale, ha fornito una sua spiegazione. Forse è talmente doloroso pensare all'impatto della guerra sugli adolescenti, in particolare alle loro esecuzioni di massa, che non si è voluto leggere niente al riguardo, anche quando questo ha significato rifiutarsi di ascoltare la loro stessa testimonianza. Forse sceglie Anne Frank come emblematica dell'olocausto, della Shoah per meglio dire, e quindi riferirsi solo a lei quando si pensava ai ragazzi della seconda guerra mondiale riflette anche un limite rispetto a quanto si ritiene di poter sopportare. Come sappiamo, memoria, storia, memoria collettiva, ricordo, interagiscono, sono fatti sociali, personali e collettivi. Il ricordo, l'insieme dei ricordi più o meno conosciuti di un'esperienza vissuta o mitizzata da una collettività è funzionale alla nascita di una memoria collettiva. Quando parlo alle studentesse, agli studenti di vari indirizzi, a parte le mie vittime, gli alunni miei, di queste problematiche, li invito sempre a conoscere i fatti, integrandoli con le testimonianze, con le fonti dirette, con i documenti. Primo Levi, Liliana Segre, Nedo Fiano, Slomo Venezia, Pietro Terracina e quanti altri hanno voluto o potuto lasciare testimonianza dell'internamento da Auschwitz, tanto per fare un esempio, probabilmente non si sono conosciuti lì. Hanno vissuto esperienze simili e al contempo profondamente diverse, le quali, messe insieme, contribuiscono a formare memoria e quindi storia. Lo stesso per Anne, la quale viveva nascosta, diciamo pure reclusa, nell'alloggio segreto, che non poteva condividere e conoscere fino in fondo realtà diverse, come la vita nei ghetti, o nelle strade, o in compagna, o nei campi di concentramento, anche particolari come Terezin, ma che comunque era a conoscenza di quanto stava accadendo e prevedeva cosa sarebbe capitato. In un passo del suo diario, riportato anche, lo vedrete in un pannello della mostra, si legge, non si salva nessuno, vecchi, bambini, neonati, donne incinte, malati, tutti, tutti camminano insieme verso la morte. Pensiamo alla fatica, al rischio a cui si andava incontro, alla difficoltà nel procurarsi la carta e la pinna, alla ricerca di un posto dove nascondere il manoscritto, al terrore di vivere l'incubo quotidiano delle persecuzioni, dei rastrellamenti, dei bombardamenti, della fame. Alcuni di questi incubi erano propri anche di chi non era ebreo, non era sottoposta alle persecuzioni, come i diversi diaristi tedeschi o italiani, molti sono testi che ancora ovviamente leggibili, erano cresciuti all'ombra di regimi, con una retorica bellicistica, nati imbevuti di una propaganda che li aveva plasmati, la pedagogia proprio di un nuovo uomo, fascista, nazista che foste. Poi nei loro diari si vede, si parte dai temi più quotidiani della giornata per gli italiani, la donate dei balille, i discorsi di Mussolini, però poi man mano si passa a dire ma a scrivere, chissà che succederà ora, perché la guerra avanza e colpisce quegli stati definiti imbattibili, anzi trionfatori e quindi la fame, le privazioni, tutto quello che sappiamo, lo sfollamento, la separazione dai familiari, la paura della morte, delle delazioni, dei rastrellamenti, l'incontro con queste situazioni e quindi anche in loro emerge l'incertezza per il futuro prossimo, la disillusione, come anche l'odio verso i nazifascisti, come anche la voglia di dare il proprio contributo e la scelta di dare il proprio contributo per esistere. Il diario. Il diario ascolta, comprende, aiuta, può essere un ascoltatore passivo, un tramite per rivolgersi a una persona lontana, un megafono per raggiungere più destinatari, può avere altri nomi, cronaca, libretto, quaderno di pensieri, giornale, comunque sia una formidabile lente per osservare la realtà, anche stando chiusi o rinchiusi. Gli autori scrivevano su album goffra di doro, su agenda rilegato e su quaderni riceputi in dono, magari a quadretti bianchi e rossi con la chiusura, no? A chiave come quello di Anna. Quando arrivarono i tempi difficili, contrabandarono e rubarono la carta, si servirono di quaderni di scuola, di rubriche, di sacchetti, di margini di libri, usarono mozziconi di matita, scrissero a lume di una candela o di una lampada a carburo e nonostante la fame, la paura, lo sfinimento, la disperazione, il freddo e la lontananza dai cari e dagli amici si sforzarono di comunicare le loro emozioni, i loro stati d'animo, le loro esperienze e gli avvenimenti e così facendo si ritagliarono un posto nel mondo. Di questi diari, come sappiamo, uno riemersi alla fine degli anni 40. Quando il 4 marzo del 44 la famiglia Frank fu arrestata, gli effetti personali furono dimenticati solo nel giugno del 45, quando ritornò dai campi l'unico sopravvissuto, cioè Otto, il papà, il diario di Anna, della figlia, venne portato alla luce e consegnato a lui. Nel marzo del 47 fu stampata la prima edizione in Olanda, seguita tre anni dopo dalla Francia. Uno scrittore americano, Meyer Levin, che a Europa aveva documentato la liberazione dei campi di concentramento, al rientro degli Stati Uniti concepì l'idea, sentita come un imperativo morale, di fare conoscere al mondo l'orrore a cui aveva assistito. Per questo gli occorreva una testimonianza da dentro. Quando nel 50 lesse il diario di Anna, Frank pensò di aver trovato quello che cercava. Anne sarebbe diventata la voce di milioni di vittime della Shoah. Il 15 giugno del 52, il giorno prima della pubblicazione del diario, pubblicazione americana, Levin scrisse una recensione sulla prima pagina del New York Times Book Review. L'articolo contribuì all'immediato successo di vendita del libro, che vide esaurite immediatamente le tirature e le due immediate ristampe. Levin si soffermò sul carattere privato del diario, sulle riflessioni di Anna nei confronti della famiglia, di se stessa, della sua formazione e crescita. Tra l'altro gli scrisse che il diario, teneramente, intimo, meravigliosamente vivo, così vicino, racchiude la vita vibrante di ciascun momento. Il diario era un mezzo per conoscere l'autrice che vi si espresse, parole di Levin, con un tale calore che ci sembra di averla lì vicino, accoccolata su un divano. In più, Levin considerò che la sopravvivenza del diario potesse garantire in qualche modo la sopravvivenza simbolica della sua autrice. Levin vedeva in Anna, nella sua voce, l'eco di tutti quelli della sua generazione che patirono l'inferno delle persecuzioni e dell'annientamento. Come egli scrisse, la voce di Anne Frank diventa la voce di sei milioni di anime scomparse. Questa ragazzina, saggia e meravigliosa, ci restituisce un commovente stupore per l'immenso animo umano. La posizione esistenziale di Anne era quindi diventò quella di una bambina martire su malgrado. Al di là del reale valore e dell'impatto della recensione, passò l'idea di una visione in qualche modo ottimistica e positiva che potesse essere ravvisata in una tragedia in mani come quella della Shoah e che il diario di Anne Frank potesse rappresentare una generazione e ravvivare la speranza dell'umanità. Questa sorta di lascito portò alla creazione di uno spettacolo a Broadway nel 1955, ad opera di Francis Goodrich e Albert Hackett, che catapultò Anne verso la celebrità e ne plasmò la visione. La riduzione teatrale, che nelle parole di Otto Frank adempia una missione, fece sì che molti spettatori, come affermò Lawrence Graver nel suo, traduco, un'ossessione con Anna Frank e Mayer Levy nel diario, credevano che avesse trasformato l'orrore in qualcosa di consolatore, ispiratore e persino purgatoriale. I personaggi saranno anche stati spacciati, ma lo spettacolo era pieno di speranza, energia, ironia, lirismo e inestirpabile vita. Gli echi di questa concessione divennero i cardini di lettura anche degli altri diari pubblicati. Non valevano più addirittura il testo, il contesto, la vita interiore dell'autore, i fatti specifici. Come per Anne, contava che la sopravvivenza di un diario divenisse la sopravvivenza del suo autore. Questa visione in qualche modo era giustificata anche dalla reazione nei confronti dell'indicibile, dall'orrore che man mano emergeva, della disperazione che nasceva dalla rivelazione della Shoah. Era insomma sia una specie di antidoto che una forma di riparazione. Come ha affermato Alexandra Zaputer, autrice dei diari dell'Olocausto, era l'impulso di cercare di riparare il danno, di vedere nelle azioni presenti un modo di cancellare ciò che è stato fatto in passato. Ma la realtà è diversa. È quella di leggere pagine, da poche decine a qualche centinaia, scritte nell'arco di pochi mesi o anni, che risultano dare una visione pallida di quella che è stata la complessità degli autori, fatta di gioia e dolori, speranze, illusioni, disillusioni, sogni, contraddizioni. La realtà è che niente può ridare vita e ricostruire la persona che ha creato il testo. Il diario risulta una fonte parziale che deve essere commisurata con le altre possibili e questo lo si vede e lo vedrete magnificamente nella mostra documentaria su Anna e deve far riflettere su quello che abbiamo di fronte e quello che è riversibilmente perduto. Mettendo insieme i diari si vedono i frammenti di una generazione perduta, come un caledoscopio. Sapete il caledoscopio? Quel tubo dove si trovano all'infuso oggetti colorati, basta girarlo e vengono fuori diverse immagini, riflessioni multiple. Non bisogna dimenticare il contesto in cui questi diari sono nati. Il programma di annientamento che partiva dalla campagna d'odio, passava attraverso l'identificazione, l'immarginazione, la ghettizzazione, l'internamento, arrivava alla cosiddetta soluzione finale. Bisogna andare al di là delle buone intenzioni di chi ha voluto celebrare l'autore e il suo coraggio, vedendo altro, esaltando lo spirito nobile, trionfante e indistruttibile, ideali e valori universali per gli umani consolatori. Occorre considerare, forse più banalmente, ma invece più realisticamente, i giovani autori e il loro destino. Per chi è sopravvissuto, il diario ha rappresentato un documento degli anni perduti, negati. Per chi non è sopravvissuto è tutto ciò che resta di una vita distrutta. La prospettiva quindi si rovescia non con solazione e conforto, ma con danno e monito. I diari vanno quindi ad aggiungersi alle altre fonti, agli altri frammenti che testimoniano il passato collettivo, la scienza degli uomini nel tempo e la scrittura quindi è una geografia del tempo. Senza romanticizzarli e colorificarli, i diari contengono in sé qualità letterale, rilevanza storica, forza evocativa, interesse coinvolgente, valore documentario tali da far luce su alcuni aspetti della politica genocidaria. Il 18 settembre 1946 nel ghetto di Varsavia, le macerie del ghetto, ex ghetto di Varsavia, sotto appunto le macerie di un palazzo al 68 di via Nolopki, dove c'era una scuola elementare yiddish, laica, yiddish praticamente sono gli ebrei dell'est, cultura yiddish, lingua yiddish, sepolto in diverse scatole metalliche che venne recuperato l'archivio a cui vengono lavorato decine di donne e uomini, dirette da uno storico Emanuel Ringelblum, dei quali pochissimo sopravvissuti. Il gruppo si chiamava Oineg Shabes, in yiddish la gioia del sabato. Pur se fiaccati dalle privazioni, essi dedicarono le residue forze a raccogliere ogni genere di testimonianza possibile che documentasse in dettaglio non solo le disumane condizioni di vita imposte dalle forze di occupazione tedesche, con la volontorosa collaborazione della popolazione più delle volte, ma anche la disperata lotta combattuta dagli ebrei per continuare a vivere. In queste scatole coloro che avevano sepolto quel tesoro avevano lasciato anche il loro testamento spirituale. Tra loro vi era David Grabber, ucciso a 19 anni, il quale è andato a 2 agosto 42, scrisse queste frasi. Quello che non abbiamo potuto gridare e urlare al mondo l'abbiamo nascosto nella terra. Come vorrei assistere al momento in cui il grande tesoro verrà dissepolto e griderà la verità al mondo, perché il mondo sappia tutto, perché coloro che non ce l'hanno fatta possono essere felici e noi possiamo sentirci come veterani con le medaglie sul petto. Noi allora diventeremo i padri, i maestri, gli educatori del futuro. Ma no, non vivremo di certo fino a vedere tutto questo. E perciò scrivo le mie ultime volontà. Possa il tesoro cadere in buone mani, possa durare fino ai tempi migliori, possa allarmare e mettere in guarda il mondo su ciò che è accaduto nel ventesimo secolo. Ora possiamo morire in pace, abbiamo compiuto la nostra missione e possa la storia testimoniare per noi. Nello stesso luogo, nel dicembre del 50, alcuni lavoratori trovarono due bidoni del latte in cui erano contenute le pagine di un saggio in polacco sul ruolo della parola scritta nel ghetto di Varsavia. La rice era una scrittrice, Gustava Iereca, che sarebbe morta a 35 anni il 23 dicembre del 42 a Treblinka, campo di sterminio, insieme ai suoi due bambini. Pur riconoscendo che la parola scritta evocava sentimenti ambigui, i documenti e le grida di dolore, l'oggettività e la passione non vanno molto d'accordo, ha lasciato scritto, la Iereca scrisse anche, il desiderio di scrivere è forte quanto la ribudianza per le parole. Odiamo le parole perché troppo spesso sono servite a coprire il vuoto e la meschinità, eppure nel passato la parola ha significato la dignità umana ed è stata il bene più prezioso dell'uomo. Bisogna gettare il documento sotto la ruota della storia, come una pietra, per fermarla. Si possono perdere tutte le speranze, tranne una che la sofferenza e l'istruzione di questa guerra acquistino un senso, quando la si guarderà da una prospettiva lontana, storica. Da sofferenze senza paragoni nella storia, da lacrime e sudore di sangue, sta nascendo una cronaca dei giorni d'inferno che incontribuirà a spiegare le ragioni storiche per cui si è arrivati a pensare a questo modo e sono sorti regni che hanno provocato una simile sofferenza. A proposito, del potere ed è al contempo della labilità della parola scritta, sentiamo cosa ne pensava primo Levi. Nel racconto Ferro, inserito nel sistema periodico, edito nel 75, gli parlò dell'amico Sandro del Mastro, il primo caduto del comando militare piemontese del partito d'azione, ucciso nel marzo 44 da un mostruoso carnefice bambino, virgolettato di Levi, di 15 anni, arruolato dalla Repubblica Sociale Italiana. A chiosa del racconto si legge, oggi so che è un'impresa senza speranza, rivestire un uomo di parole, farlo rivivere in una pagina scritta. Un uomo come Sandro, in specie, non era un uomo da raccontare né da fargli monumenti, lui che dei monumenti rideva, stava tutto nelle azioni e finite quelle, di lui non resta nulla, nulla se non parole, appunto. Poi per chi studia, Foscolo, Leopardi, la memoria, il ricordo, sono temi presenti nell'uomo, no? Chi erano gli autori e come possiamo classificare i diari? La provenienza sociale dei giovani diaristi è la più varia, c'era chi proveniva da famiglie povere, contadine, gli operai, chi apparteneva alla classe media, chi era conosciuto nel benessere, anche la connotazione religiosa era non uniforme, la maggior parte, indipendentemente poi dalla reale professione di fede, sappiamo era di tradizione e cultura ebraica, ma non solo. Si possono inquadrare anche delle categorie di diari a seconda della situazione vissuta dagli oratori, diari scritti da ragazzi costretti a fuggire da territori occupati, divenuti profughi o membri della resistenza, diari scritti in clandestinità come Anne Frank, la quale tra l'altro poi erano andati via dalla Germania e andati in Olanda, quindi anche una categoria di mezzo, diari redatti in condizione di internamento nei ghetti o più raramente nei campi di concentramento. I diari dell'Esodo furono redatti tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40 da giovani appartenenti a famiglie ebraiche perfettamente assimilati nelle società tedesca, austriaca o ciecoslovacca. Alcuni di questi giovani, scrittori come Jutta Salzberg, Lily Kohn, Susie Isesrat, Elisabeth Kaufman, erano fuggiti con i fratelli o i genitori. Altri, come Klaus Langer, Peter Fly, Werner Angres e Leida Yekvab, giunsero da soli in terra straniera, tutti costretti verso realtà ignote. La condizione di vita di Anne Frank nel rifugio segreto fu comune a quella di tanti altri giovani, i quali da soli o insieme alle famiglie furono obbligati a vivere in clandestinità in mansarde, soffitte, cantine, bunker. La condizione primaria è il continuo stato di tensione e di terrore, per cui spesso dovevano restare in silenzio o perfino immobili nei loro nascondigli, a volte per ore. E sappiamo che Anne avevano orari precisi per poter fare un po' di rumore, perché chiudevano i laboratori sotto. Come per Anne, questi giovani scrittori, tra cui Otto Wolf, nel prodottorato di Bohemia Moravia, Mina Glussan, Kara Kramer e Leo Sieberman in Polonia, Berti Bloch-Warrin, Edith Van Essen e Anita Mayer in Olanda, riflettevano sui disagi e sui pericoli posti dalla vita clandestina. Per altri si trattò di stravolgere la vita, cambiarono identità, finsero da appartenere ad altra religione rispetto a quella ebraica, dovettero imparare gesti e modi di dire, stando attenti a non tradirsi, a non tradire i loro saccorritori. È il caso ad esempio di Mosche Flinker, morto a 18 anni ad Auschwitz nel 1944 in Belgio, Peter Feig in Francia, i quali come tanti si nascosero sotto gli occhi di tutti utilizzando documenti contraffatti e false identità. La maggior parte dei diari della Shoah venne scritta in condizioni di internamento, in specie nei ghetti dell'est Europa. Si raccontava la quotidiana lotta per la sopravvivenza, il terrore e la violenza della persecuzione nazista, ma anche le storie dei giovani che tentarono di trascendere quelle situazioni attraverso la studio, la creatività, il gioco, l'amore, come c'è testimoniato Anne e anche altri. Tra questi sono famosi i diari di David Sierakowiak, morto 19enne nel ghetto di Lodz in Polonia nel 1943, di due adolescenti anonimi di Lodz, su cui tornerò poi alla fine. Sono pochi i diari completi ritrovati nel ghetto di Warszawa, i miei fragmenti di appunti di Janina Levinston sopravvissero e furono inseguiti inclusi nella sua autobiografia, lei è sopravvissuta e morta nel 2010. Irene Gluck, morta a 16 anni nel 1942, Renia Cole, Alina Nelken, scrissero i loro diari nel ghetto di Cracovia, mentre Davide Rubinovitz, morta a Treblinka a 15 anni nel 1942, Elisa Binder e Rutte Leiblich, lui morto a 16 anni ad Auschwitz nel 1942, scrissero diari che documentano la persecuzione nelle loro comunità. Molti diari di guerra provengono dai ghetti dei paesi baltici. Iskok Rudaveski, morto nella foresta di Ponari a 16 anni con tutta la cittadina, tutto il popolo, il paese praticamente nel 1943, Gabic Ellern del ghetto di Wisn a Vilnius in Lituania, Ilia Gerber, morta a 19 anni nel 1943, Tamara Lazerson del ghetto di Kovno a Kaunas in Lituania, Gertrude Schneider, una giovane ebrea tedesca rinchiusa nel ghetto di Riga. Un numero consistente di diari è arrivato a noi da Terezin o Teresestad in Bohemia, parte ora della Repubblica Ceca. Tra di essi si annoverano gli iscritti di Peter Ginz, morto a 16 anni ad Auschwitz nel 1944, Eva Ginzova con fratello e sorella, Alice Herman, Helga Vessova, Helga Polakova, Eva Rubikova, Paul Wenger. Mi voglio soffermare per qualche momento sul diario scritto da una ragazza di 14 anni, Rutka Laskier, nella sua patria conosciuta come Lanfranc Polacca, nata proprio nello stesso giorno di Anne. L'altra curiosa coincidenza è che in entrambi i casi di tutta la famiglia sono sopravvissuti soltanto il padre, per Rutka. Rutka nasce a Coragovia il 12 di junno del 29, viveva rinchiusa nel ghetto di Betzin, a meno di 50 chilometri a ovest di Oswiecim, più nota come Auschwitz. Lì Rutka lavorava in fabbrica e forse era in contatto con elementi della resistenza, come si evince da alcune notizie riportate nel diario in cui annotava in ordine sparso quello che le piaceva o non le piaceva, tra cui come Anna Frank e la sua maturazione fisica e sessuale. A differenza di Anne, Rutka non era una bambina nascosta, sapeva tutto. Come i suoi amici del ghetto, sapeva che sarebbero morti tutti in un luogo ben preciso, Auschwitz appunto, sapeva delle camera gas e ogni giorno vedeva sparire interi gruppi e uccidere davanti a lei bambini e vecchi. E così sarebbe accaduto a lei e a quasi tutta la sua famiglia nel dicembre 43. Tutti furono immediatamente condotti nella camera gas. C'è una testimonianza che dice che lei sopravvisse qualche tempo, poi fu vittima di un'epidemia colera, però non è un problema. Yaakov, il padre, sopravvisse miracolosamente e una volta giunto in Israele si risposò. Nel diario di Rutka si legge il 5 febbraio 43. Mio Dio, mio Dio, che cosa ci succederà? Oh Rutka, devi essere diventata completamente matta, ti rivolgi a Dio come se esistesse. Se Dio esistesse certamente non permetterebbe che la gente sia gettata via nei forni. Tutto questo non basta, basta non finire ad Auschwitz e alla fine, quando arriverà, ma Rutka resisteva, viveva, leggeva, aveva bisogno di essere rassicurata di confessarsi con qualcuno, non potendo contare in un prete cristiano, non una confessione, insomma, essendo ebrea. Allora si rivolse a Stanislava Sapiska, più vecchia di sei anni, cattolica. A lei confidò che quando sarebbe arrivato il giorno fatidico avrebbe messo il diario sotto la doppia pavimentazione del vano della scala della casa in cui abitava di proprietà dei genitori di Stanislava, requisita nel 40 dai nazisti. Il diario inizia il 19 gennaio con la frase, non riesco a credere che già il 1943, a quattro anni dall'inizio di questo inferno. Una delle frasi finali del diario è la seguente, se solo potessi dire è finita, muori una volta sola, ma non posso perché nonostante tutta questa atrocità voglio vivere e aspettare il giorno dopo. L'ultima data del diario di Rutka il 24 di aprile. A guerra finita Stanislav tornò nella casa, saccheggiata e devastata. Il diario, una stessa cantina di pagine, si trovava esattamente dove era stato lasciato, quasi indenne. Stanislava di ogni tanto, di tanto in tanto lo leggeva, ma non ne fece altro uso finché compie 80 anni quando ne parlò ai familiari, in particolare era una sua nipote che ne intuì il valore e lo fece conoscere ad Adam Slidovski, il presidente del centro di cultura ebraica della regione. Egli infine ritrovò gli eredi della famiglia di Rutka tra cui era Sahava Laskersherz, lei che quattordicenne aveva visto Rutka in una foto con il braccio e il fratellino e aveva chiesto al padre chi sono questi due bambini e il padre le ha detto in realtà sono i tuoi fratellini perché lei si era risposata. Quindi Sahava era figlia della seconda moglie. Per Sahava fu uno shock essendo convinta di essere figlia unica, provò una profonda tristezza per il passato di suo padre e per la sua sofferenza. Di colpo si ritrova con una sorella e un fratello. La figlia di Sahava è stata chiamata Rutka. Il diario venne pubblicato in lingua polacca nel 2005 e poi nel 2007 donato dalla Sapinska proprio a Yad Vashem che sappiamo è il museo israeliano dell'olocausto. Molti diari furono scritti da bambini o ragazzi che vivono al di fuori dei ghetti. Sara Finskin, morta circa 18 anni nel 1942, ad esempio tenne un diario nella città di Rubenswick, nella Bielorussia occupata. Rival Gozman descrive i sei mesi dell'occupazione in Ucraina e poi altri e altri ancora. C'è per esempio Gunther Barkuse, morto a 21 anni ad Auschwitz, nel 1944, che racconta l'esperienza in un campo di lavoro forzato presso Gross-Bressen. Altri come Raimondo Doroski, descrisse la sua vita presso il centro Vauclaine, un istituto per l'infanzia gestito dall'Union Generale des Israels de France. Perché scrivere quindi? Perché ostinarsi a tenere dei diari? Fra temi prevalenti, oltre allo smarrimento per la perdita dei loro orizzonti, emergono le difficoltà per provare asilo legate alla burocrazia e per ottenere i visti per espatriare. Se poi si considera che molti furono costretti a fuggire illegalmente, si può intuire con quanti e quali patemi si dovessero affrontare situazioni nuove, tutte potenzialmente letali. Gli scritti contengono riflessioni sullo stato di abbandono, di stacco della propria casa, degli affetti dalla lingua, tutto quello che possiamo immaginarci, anche il nuovo adattamento. Per la maggior parte i giovani autori videro nei diari un'occasione per sfocare lo sdegno e la rabbia dove non rischiavano di essere puniti e di mettere in pericolo nessuno. I diari rappresentarono anche un ausilio psicologico, una terapia per continuare a resistere. Un giovane danese, Kild Maltebrun, in isolamento in una prigione nazista, scrisse, dopo essere stato torturato, di improvviso ho capito che cosa deve essere la follia, ma sapendo che questa era come qualsiasi altra cosa che mi è successa e che in un paio di giorni sarei stato di nuovo me stesso. Altri, come Marsha Roilingas, di 14 anni, annotarono anche, fu costretta la marcia alla morte nel campo di concentramento di Stutthof, continuo con la mente a scrivere il mio diario con la mente, non lo scrive perché era impegnata nella marcia della morte, per sentire un po' meno la debolezza. Il diario ebbe anche una valenza politica, come Perina Costantinova, sedicenne, che divenne una partigiana sabotatrice, una spia per l'Unione Sovietica nella lotta antinazista. Oppure Anna Senes, di 17 anni, che apparteneva al movimento sionista, che decise di unirsi ai partigiani israeliani che combattevano con gli inglesi in Jugoslavia, dove fu catturata. Molto famosi questi russi in Israele. Nel continente, per esempio, Kim Maltebrun, di 18 anni, che descrisse la sua vita interiore prima di essere fucilato, perché era stato condannato a morte per aver partecipato al movimento partigiano in Danimarca. Un caso particolare fu quello di Mary Berg, nata nel 24, la quale cominciò a scrivere il diario nell'ottobre 39, giorno del 15esimo compleanno. Durante l'occupazione nazista viveva in Polonia con i genitori. Sebbene la madre e lei non fossero ebrei e avessero la cittadinanza americana, furono imprigionate nel ghetto di Varsavia. Mary quindi registrò gli orrori e l'atrocità della vita quotidiana e quello che capitò alla sua famiglia. E' vicino e tutto quello che accadeva. Infine venne liberata con la madre in uno scambio con dei prigionieri tedeschi. Riuscì a far passare il suo voluminoso diario perché non venne perquisita. Poi riuscì a farlo pubblicare nel 65 negli Stati Uniti. È una fonte fondamentale che invito anche i ragazzi, è edito per cui è facilmente acquistabile, veribile, insomma. Dirò tutto delle nostre sofferenze, delle nostre battaglie, del massacro dei nostri cari e pretenderò una punizione per gli assassini tedeschi e le loro donne di Berlino, Monaco, Noriberga, le quali hanno goduto i frutti dell'assassino e portano ancora gli abiti e le scarpe della nostra gente martirizzata. Alcuni autori hanno scritto della loro solitudine, qua esalto altri, insomma. Comunque in molti diari emerge la consapevolezza, rivelata insesatta, che aiutare le bee e altre vittime dei nazisti non rientrasse tra le priorità del governo americano anche per l'antisemitismo. Le politiche statunitense erano anzi più difficili ai rifugiati ottenere il visto per entrare nel paese e molti riportano questi dati. Questo è solo un esempio della notevole maturità, saggezza, profondità di pensiero dei giovani autori. Nessuno perse il contatto con la propria vita interiore, in ogni diario si depersivisce la loro personalità. Essi rappresentarono la prova vivente del fallimento dell'ideologia totalitaria che voleva creare degli automi primi di personalità. A tal proposito, cioè a proposito di questo e il mantenimento anche dell'integrità umana, vorrei ricordare, mi avvio quasi alla conclusione, la figura di Davide Rubinovitz, probabilmente ucciso quindicenne con la sua famiglia nella camera a gas di Treblinka nel settembre 42, di cui colpisce veramente la statura morale, insomma, 15 anni. Lui iniziò a scrivere il diario a 12 anni, una degli autori più giovani, come in altri casi non scrisse alcuna introduzione, presentazione, dichiarazione. Ci sono righe in cui si mostrava fiero di aver imparato ad andare in bicicletta, che ne so, oppure spaventato da un temporale, però contemporaneamente, magari nella stessa pagina, una pagina successiva appare imperturbato davanti a un corpo sbemprato e coraggioso in occasione dell'eruzione della polizia in caso dei bombardamenti. Diventò in pratica un po' il capofamiglia, la famiglia di agricoltori che si erano spostati poi anche dalla loro zona. Lui racconta le liste per la distribuzione, riporta tutti gli elenchi, la mietitura, gli effetti negativi e via dicendo. Però c'è anche una frase apparentemente banale, ma che ci dice qual era stato ormai il clima di prostrazione tale che nella mente delle persone dell'Ebrera è diventata una forza schiavile senza nemmeno si chiedesse loro. Dopo colazione siamo usciti a spalare la neve, anche se non ce l'aveva ordinato nessuno, ma durante la notte la strada principale si era ricoperta di neve. Egli annotava i gesti dei solidarietà dei pochi polacchi nei confronti degli ebrei, pochi rispetto all'ipocrisia e al collaborazionismo dilagante. E l'ultima annotazione del primo giugno del 42. Il padre era stato preso, portato in un campo vicino per lavorare, il campo era gestito da un produttore di esplosivi. Il primo giugno del 42 il padre viene liberato da quel campo di lavoro coatto e contemporaneamente regista anche la fucilazione di due donne nel bosco vicino. La polizia ebrea è andata subito nel bosco per seppellirle nel cimitero. Quando il carro è tornato era pieno di sangue. Chi? Chi è l'ultima parola del diario. Tre mesi e mezzo dopo questa annotazione, tra il 15 e il 21 settembre del 42, David con la sua famiglia e 5.000 ebrei furono concentrati nel ghetto di Bozentin, fatti marciare fino alla città di Sudenikov e caricati su carribenziami condotti a Treblinka dove venero uccisi. Leggere le loro pagine deve servire a renderci sempre più consapevoli del valore della libertà. Attraverso le righe si riafferma lo spirito umano che trascendeva il male, che non può essere distrutto nonostante le terribili ferite inferte. Iscock Rudaveski, ebrello ituano, allora 14 anni nel ghetto di Vilnius, non pensa a niente, non a ciò che sto perdendo, non a ciò che ho appena perduto, non a quello che mi aspetta, non vedo le strade davanti a me, la gente che passa, sento solo che sono terribilmente stanco, sento che un'offesa, una ferita mi brucia dentro. Iscock sarebbe stato fucilato due anni dopo, il primo ottobre 43, insieme ai suoi parenti in uno dei massacri di Ponari, 10 chilometri da Vilnius. Il suo diario, scritto tra il giugno 41 e l'aprile 43, fu scoperto nel 44 da sua cugina che combatteva l'esercito tedesco e che poi tornò a nascondersi. Concludo con alcune righe scritte da un ignoro da ragazzo nel 44, insieme a una poesia scritta dalla sorellina di 12 anni, il cui testo è stato ricopiato dal fratello nel suo diario. Siamo nel ghetto di Lozzi. Le righe del diario furono scritte all'interno di un vecchio romanzo francese, trovato casualmente da Abraham Benkel, unico scampato della sua famiglia ad Auschwitz, e tornato a recuperare alcune cose nella casa del ghetto dove era vissuto. Il libro era l'unico sfuggito alle razzie e stava nella casa vicino a quella di Benkel. La sorellina scrisse questa poesia. Infanzia, cari giorni, ahimè come pochi essi erano, che vagamente solo io le ricordo, e solo nei miei sogni che io posso immaginare i giorni andati, breve da avere l'umana felicità in questo nostro mondo. E il fratello, l'autore del diario, anonimo, dice, siamo così stanchi della vita, stiamo parlando con mia sorellina di 12 anni e lei mi ha detto, sono molto stanca di questa vita, una morte rapida sarebbe un sollievo per noi. Oh mondo, mondo, cosa hanno fatto questi bambini innocenti per essere trattati in questo modo? Veramente l'umanità non ha progredito molto dalla caverna della bestia selvaggia. Grazie al cielo non sono realista, perché essere realista e capire, capire l'intero orrore della nostra situazione, sarebbe stato più di quanto un essere umano può sopportare. Continuo a sognare, a sognare della nostra sopravvivenza e di diventare liberi per poter raccontare al mondo, per gridare, condannare, per raccontare e protestare. Grazie. Io credo che sia stata apprezzata da tutti questa complessa relazione sulla diaristica nel periodo della Shoah e credo anche, non lo so, lo condivido con l'autore, col professor Radacker, che eventualmente è a disposizione dei professori, dei ragazzi che sono presenti, magari di chi, per approfondire il tema naturalmente. E a proposito di questo, prima io avevo accennato a quel progetto La memoria e il viaggio, che abbiamo iniziato più o meno una decina di anni fa. Poi il Covid ha bloccato questo viaggio che era abbastanza complesso, perché vi ricordavo prima che era sempre preceduto da una formazione di un paio di mesi, con lezioni settimanali, con i testimoni, con i grandi storici. Poi si celebrava appunto il giorno della memoria, il 27 gennaio e a metà febbraio, fine febbraio, si partiva per i luoghi della memoria. Abbiamo visitato tantissimi campi di concentramento, il più distante, però ci siamo stati comunque due volte, era Auschwitz e Auschwitz. Ad Auschwitz dovevamo tornare nel 2020 e poi proprio il Ministero, ecco il Direttore Generale che è presente oggi, Massimiliano Nardocci, mi disse noi dovevamo partire il giorno dopo, c'era stata la circolare del Ministro dicendo si bloccano tutti i viaggi, giustamente, per l'emergenza sanitaria. Da allora non lo abbiamo più fatto questo progetto, anche perché siamo usciti anche da poco da questa emergenza sanitaria, ci vogliamo anche riprovare, qui ci sono tanti docenti che hanno partecipato come accompagnatori, come tutor a questi progetti. Oggi non è semplice rifarlo perché tante cose sono nel frattempo cambiate e noi abbiamo portato, e questo per noi è un onore, anche 220-230 tra studenti e docenti. Ogni gruppo di 15 studenti aveva un docente referente che non serviva solo ad accompagnarli, ma serviva poi per elaborare, rielaborare tutto il materiale, tutte le esperienze, anche personali, anche drammatiche di impatto con una realtà terribile. Perché noi abbiamo avuto, e Davide Adaker può essere un testimone, ma anche credo Roberto Gianfelice, forse c'era anche lui o qualcun altro dei presenti, a Mauthausen qualche momento di terrore dei ragazzi, di panico, di fronte a realtà inimmaginabili. Quindi per cui questo lo facciamo. Ma mi fermo qui perché allungherei una bellissima relazione, veramente complimenti. A questo punto poi ci sarà un altro intervento musicale, però io voglio dare la parola, lo facciamo per ultimo perché poi ci sposteremo nella Navata. Io invece voglio dare la parola a Roberta Gibertoni, che è la persona che ha allestito la mostra alla Navata, ma è la persona che mi ha messo in contatto con l'ambasciato olandese che ci ha portato questa mostra. Roberta ci parlerà, credo, un pochino qui e poi ci illustrerà, ci farà la visita guidata nella Navata, che è una location bellissima naturalmente, e darà, credo, anche gli attestati ai ragazzi formati, ma ci dirà tutto lei. Io ringrazio intanto i miei ospiti, ecco l'assessore Lancia, che credo per impegni istituzionali, ma che oggi c'è la sovrapposizione, come dicevamo, dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma c'è anche quella vostra iniziativa all'auditorium, quindi davvero grazie che hai potuto essere presente. Diamo la parola alla Gibertoni, alla professoressa Gibertoni e poi ritorneremo un attimo a parlare con l'ambasciata. Allora, Roberta, a te la parola. Grazie mille a tutti, io faccio parte di uno studio che ha sede a Carpi, si chiama Proforma Memoria, che rappresenta i progetti e le mostre dell'Anne Frank House di Amsterdam. Per la mostra che andremo a inaugurare tra poco, in questa sede così prestigiosa, io ringrazio tutti gli enti che hanno reso possibile questo evento per la prima volta, tra l'altro, nella vostra regione e soprattutto l'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, in particolare il presidente e il professor Fonsi, senza il quale nulla avrebbe preso vita. La mostra che andiamo a inaugurare adesso non è arrivata in questi giorni all'Aquila, ma era già presente a partire da ottobre nell'ambito di un progetto di educazione tra pari, un progetto di peer education che è stato sostenuto con grande vigore e con grande convinzione dall'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e che si è svolto appunto grazie al contributo del Dipartimento Educativo dell'Anne Frank House che ha mandato il suo direttore e nei quattro istituti della città, non solo la mostra è circuitata in questi quattro mesi, ma è stata presentata dai ragazzi che in questa attività didattica sono stati formati e sono diventate guide esperte. Hanno fatto le guide ai loro compagni e faranno le guide anche nel periodo di allestimento della mostra in questa sede. Io ho partecipato a questa formazione, sono rimasta molto colpita dalla risposta dei ragazzi, dal loro entusiasmo, dalla loro competenza, ma li porto dentro da sempre e spero che rimaneremo in contatto con loro, con i loro docenti, con i dirigenti che ci hanno accolto in una maniera straordinaria. Per me è stato davvero personalmente un progetto emozionante. Come piccolo ricordo anche per loro io vi consegno i certificati, i piccoli attestati di partecipazione che l'Anne Francaus ha preparato per voi. Venite tutti qua e ve li distribuisco dicendo i vostri nomi. Grazie. 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 Le guide esperte sono loro, fotografateli perché sono dei ragazzi straordinari. Allora, Riccardo Parisi. Grazie. Emanuele Scancella. Marinella Asaru. Hanno sbagliato a scrivere. Irene Amicarella. La ritiro tu. Giorgia Ghizzoni. Romolo Ricci. Chiara Perilli. Hanno sbagliato. Scusa. Elena Petricola. Rebecca Properzi. Grazie a voi. Mattia Di Gregorio. Tommaso Galassini. Sono tutti i mali. Michele Pizzo. Cristina e Marina. Sono qui. Massimo Mario Tarquini. Roberto Giuliani. Annalisa De Santis. Gabriele Porcelluzzi. Alessia Coletti. Jacopo Migliorini. Jacopo non c'è. Chi lo prende il suo? Ah, grazie. Michela De Paoli. Edoardo Pomero. Pomero. Scusa. Elisa Di Credico. Andate a visitare la mostra con questi ragazzi perché sono stati delle guide veramente entusiasti e competenti. Prima di spostarvi però aspettate che c'è ancora l'intervento musicale che facciamo qui e non nella Navata. Quindi volevi aggiungere qualcosa Roberta? No. Allora ragazzi andatevi pure a riaccomodare cinque minuti così tanto siamo perfettamente nei tempi perché noi chiuderemo con la visita alla Navata che più o meno durerà una ventina di minuti, mezz'ora per arrivarci. E ovviamente aspettate, sì provate pure gli strumenti, intanto io continuo a, volevi un attimo te lo faccio presentare il brano. Volevo ringraziare ancora tutti i presenti e tra i presenti ho citato i miei colleghi, ho citato le autorità ma ci sono anche molti presidenti di associazioni cittadine o di club service. E quindi per noi è importante che anche queste nostre iniziative siano portate a conoscenza della città attraverso di loro. Quindi grazie a tutti per la vostra presenza. Do la parola al seguito di me, vieni pure che così illustrerà il brano. Subito dopo ci sposteremo attraverso il giardino d'inverno che è, anzi, prima di dare lo spazio, allora consentitemi un'altra cosa importante. Subito dopo la musica non vi alzate perché c'è un altro momento istituzionale, proprio un minuto e poi ci sposteremo. Allora a te la parola, grazie. Vi presentiamo ora un altro brano, tratto dall'antologia d'opera di Francesco Lotoro, Wirzingen Eichlager, attestato nel campo di Bergen-Belsen nel 1944-1945. Il brano è stato composto nella musica e nel testo da Robert Marzer Gosschalk ed è caratterizzato dall'alternanza di un verso in lingua tedesca e in una lingua olandese. La sua traduzione è «Cantiamo una canzone speciale per il campo, la melodia resta subito nell'orecchio, preoccuparti non ti farà girare il mondo, venite a sedervi con noi tranquillamente perché le persone cattive non hanno canzoni». Anche questo brano, originariamente per coro femminile a cappella, verrà eseguito in un arrangiamento per coro, voci miste e strumenti. Grazie. 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 Bravissimi, brava professoressa, bravi ragazzi, bravi tutti, bravi al liceo musicale. Un applauso glielo facciamo al liceo musicale. Fateci avere i nomi di ragazzi che hanno partecipato perché gli faremo un attestato e poi lo autorizzerete, lo dico anche alla mia collega Presidente Ottaviano, per i crediti formativi, se volete, perché mi sembra lo meritino assolutamente. Grazie. Grazie. Perfetto allora. Allora ancora un applauso. Grazie professoressa. Allora prima di spostarci io voglio fare un piccolo dono all'ambasciatrice, alla viceambasciatrice. Sono i nostri libri, le nostre produzioni, l'Istituto di Storia, lo IASDIC, questo acronimo complicato che sta per Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea, pubblica una rivista che si chiama Abruzzo Contemporaneo, due numeri l'anno, ma sono dei libri naturalmente, e una collana storica che ha tre libri. Sono in questa busta, io mi pregio di donarli all'ambasciata così, insomma, per ricordarvi anche della vostra visita all'Aquila e di questa giornata. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Va bene, allora ci possiamo spostare? Vuole aggiungere, non lo posso dire, non ho la parola. Va bene, allora grazie a tutti, ma ci spostiamo di là, passiamo all'interno, saliamo le scale e arriviamo alla navata che è l'ingresso ufficiale poi del Consiglio regionale. Consiglio regionale che io ringrazio perché la struttura del Consiglio, ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con me a questa accoglienza. Grazie signora, grazie a tutti, grazie alle mie dottoresse. A dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.